In carrozza, a cavallo, in treno, in auto, comunque sempre in movimento. Sono i temi ritratti nella singolare mostra promossa dal Consiglio regionale dalla carrozza all'aereo, i piemontesi e i mezzi di locomozione nella fotografia dal 1860 al 1960. La mostra è visitabile nel medioevale Ricetto di Candelo o Biella fino al 3 agosto.